Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso su una risorsa semplicissima che mi ha conquistato. Parlo di una nuova lavagna digitale, segnalatami dall'amico Albano Battistella che ringrazio come faccio spesso nei miei videocorsi, e questa lavagna digitale la andiamo ad utilizzare interamente online, con un qualsiasi browser e su qualsiasi dispositivo. Sapete che io vi consiglio per motivi di maggiore compatibilità, sempre l'adozione di Google Chrome o Mozilla Firefox. Ebbene, il nome di questa lavagna digitale, sempre qui sul mio canale YouTube, trovate una playlist, cioè rubrica dedicata alle lavagne digitali, è Excalibur, un nome quasi fantastico, richiama Excalibur, non so se anche a voi suscita lo stesso ricordo, sito di riferimento Excalibur, scritto di R-A-W-W, lo state vedendo, punto com. Perché mi è piaciuta subito? Per l'immediatezza, per la semplicità, e perché sapete che soprattutto nella scuola con il digitale occorre scegliere, non essere scelti, questa lavagna promette, nelle sue condizioni di utilizzo, di offrirci una crittografia end-to-end quando condividiamo la lavagna con i nostri destinatari mediante link, quindi i nostri alunni. In sintesi, cos'è questa crittografia end-to-end? Significa che ciò che ci andiamo a scambiare sulla lavagna viene visto e questo scambio di dati è solo in capo a me e al mio destinatario, non rimane una traccia impressa sul server che fornisce il servizio. Ecco, piccole funzionalità utili, pratiche. Cos'è questa luna? Con un clic attivo il tema scuro, utile per ricordare l'ardesia, delle lavagne tradizionali, utile per riposare la vista, se la utilizziamo magari in orario serale, pulsanti in alto quadrati di semplice utilizzo. Il pulsante penna, vedete, una volta attivo, mi mostra in colonna a sinistra, intanto sposto il mio faccione, le opzioni anche raffinate, quali? Lo spessore del tratto, clic, lo stile del tratto, l'imprecisione, guardate, simula la naturalezza del gesto. Ora io sto utilizzando il tasto sinistro del mouse, mi dovete perdonare, ho la tavoletta grafica, ma per semplicità, vi posso dire, so che vi date di me, vi ringrazio sempre per l'affetto e la stima, che è immediato il tratto, che si tratti di schermo del computer o che si tratti di schermo touch, e addirittura guardate alcune funzionalità rapide. Devo cancellare una scritta, oppure cancello poiché ho commesso un errore. Cerco la gomma, non c'è, perché è ancora più semplice, guardate, faccio un clic sulla freccia, classico pulsante di selezione in moltissimi applicativi, tengo premuto il tasto sinistro, circondo cioè l'elemento che non mi va più, e vado a premere il tasto backspace, quello sopra l'invio per cancellare la gomma, chiamiamola impropriamente, o il tasto cance, piazza pulita. Altrimenti un clic sul bidone cancella interamente la tela, così Excalidrow chiama la lavagna, la superficie della lavagna. Quello che noi abbiamo qui a disposizione è ovviamente l'inserimento anche di forme geometriche, abbiamo il quadrato, abbiamo il rombo, abbiamo il cerchio, vedete la semplicità di utilizzo? Vi ripeto, questa vuole essere proprio una lavagna. Lavagna, lavagna che posso mostrare in un contesto di DAD o di DD, in presentazione schermo con l'applicativo che sto utilizzando per la mia lezione sincrona, ma lavagna che potrò facilmente condividere con i miei alunni o destinatari. Naturalmente abbiamo la possibilità di inserire, con un clic sul pulsante A, una casella di testo, nella sua semplicità, Excalidrow è anche uno strumento raffinato perché mi fa inserire il testo, mi fa scegliere il colore, lo vedete, mi fa scegliere la dimensione con le taglie quasi, come dire, no? Analoghe ad un capo di abbigliamento, small, medium, eccetera, eccetera. Mi fa scegliere se, ecco, ed ora lo vedremo, andare ad avere un corpo del testo più importante o meno, l'allineamento, addirittura l'opacità rispetto alla lavagna. Guardate, io adesso vado a cliccare, digito geometria, e poi in realtà abbiamo imparato prima, e lo ripetiamo, che io richiamo con un clic la freccia di selezione, vado a cliccare su geometria, sposto, sposto dove io voglia, ho le maniglie di ridimensionamento, guardate addirittura, tengo premuto il tasto sinistro, sino a che io lo tengo premuto, guardate, ho anche una sorta di guida all'uso in alcune funzioni, per mantenere le proporzioni, tieni premuto maiuscolo durante il ridimensionamento, lo sto facendo, il tasto shift, cioè cambio, quello classico per avere la singola lettera maiuscola, e in effetti fa quello che mi promette di fare. Mi piace per questa immediatezza, per la scrittura, per l'agilità d'uso, non vuole essere multimediale a tutti i costi, ma, osservate, abbiamo un pulsante a forma di quadratini libreria, clic, a che cosa servirà? Clicchiamo su sfoglia librerie, e scopriamo, che abbiamo la possibilità di, implementare, elementi grafici, da poter usare, per la nostra lavagna, elementi in termini di icone, o elementi in termini di blocchi, cioè, più che icone in sé, proprio elementi grafici, per creare, ad esempio, una mappa, concettuale o mentale, per creare un flowchart, un diagramma di flusso, per altri impieghi, eccetera, eccetera. Guardate, mi sono piaciuti, devo dirvi, così pensando, ad esempio, alla scuola primaria, e non solo, le stick figures. Io adesso, clicco su, add to, excalidrow, avete visto, e do in realtà, la possibilità, clic, di creare una sorta di, storyboard, non lo chiamiamo cartone animato, mi sembra improprio, però, poter inserire dei personaggi, in questo caso, ora, il mio personaggio è selezionato, come state vedendo, andiamo un po', a vedere a sinistra, c'è scritto, tratto, clicchiamo, io vado a scegliere un azzurrino, e infatti, ho modificato, con estrema facilità, il colore del tratto, della mia stick figure, e, qui in alto, invece, dove abbiamo, ecco, il pulsante, a forma di quadrato, nero, scuro, ecco, questo è il colore, dello sfondo, anche il colore della lavagna, può essere cambiato, poi abbiamo la possibilità, con il più e il meno, di incrementare, vedete, o di ridurre, lo zoom, presente sulla lavagna, ecco, mi piace questa immediatezza, mi piace la semplicità di utilizzo, così come, mi piace la possibilità, di condividere, rapidamente, con un destinatario, questa lavagna, fruendo della criptografia, end to end, in parole povere, cosa significa? Significa che, Excalibro, sostanzialmente, non trattiene, sui server, che gli consentono di funzionare, alcuna informazione, cioè, quando io scambio un dato, una lavagna, in Excalibro, questa lavagna, è visibile, in capo, diciamo, solo a me, e al destinatario, come faccio a condividere? clicca sull'icona, a forma di doppia testa, puoi invitare persone, nella tua scena attuale, per collaborare con te, ed ecco, che ci segnala, l'utilizzo della criptografia, end to end, tanto per intenderci, è la stessa criptografia, dichiarata anche, dall'applicativo, di messaggistica, istantanea, Whatsapp, che ben, conoscete, io ora clicco, su avvia sessione, guardate, collaborazione live, la sessione di collaborazione, attualmente in corso, condividi questo link, bene, io, lo clicco, ok, tasto destro, poi vado a cliccare su copia, il vostro nome, digito, Andrea, abbiamo, come potete vedere, un pulsante, che si chiama, condividi, che è già presente lì, in verità, e che mi permette, addirittura, interessante, di, condividere, adesso, in questo caso, c'è un sistema operativo Windows, però, mi piace, tutto sommato, anche questa integrazione, io posso condividere, vedete, o copiando il collegamento, anche da qui, o tramite l'applicativo, di posta integrato, oppure, ancora, addirittura, una condivisione, ecco, di prossimità, mediante, magari, bluetooth o wifi, ma ecco, qui lascio a voi, la sperimentazione, facciamo una condivisione, classica, cioè, simulo, ora di essere un alunno, per fare questo, ormai, guardando i miei video, lo sapete, clicco in alto, a destra, sui tre pallini, il menu di Google Chrome, vado a scegliere, nuova finestra, di navigazione, in incognito, clicco nella barra, in alto, degli indirizzi, con il tasto destro, clicco con il tasto sinistro, su incolla, e vai, caricamento, della scena, eccola qui, chiaramente, questa, è bianca, perché, perché, è la lavagna, che sta, vedendo, e sulla quale, può interagire, un altro utente, non Andrea, Andrea, per sé, ha scelto, il tema scuro, ma, l'altro destinatario, tranquillamente, può, non avere il tema scuro, e io, se voglio andare a fare, un inserimento, vado a cliccare, sulla A, lo vedete, tratto, questa volta scelgo, un colore rosso, geometria, le, forme, vedete, quindi, è, molto, grazioso, qui abbiamo, delle opzioni, che ci permettono, anche di scegliere, il tipo di carattere, per intenderci, carattere calligrafico, carattere con, una, rappresentazione, maggiormente, geometrica, torno, con un click, sull'icona di chrome, provo a chiudere con x, eccoci qua, sulla mia lavagna Andrea, siamo due utenti, e avete visto, la semplicità di utilizzo, abbiamo poi, a disposizione, che cosa, un pulsante, con il foglio e la freccia, che va verso l'esterno, con un click, vado ad esportare, molto bella, anche questa, funzione, guardate, io posso, esportare, la mia lavagna, con il tema chiaro, o con il tema scuro, plausibilmente, in formato PNG, io lo consiglio, perché è un formato immagine, comunque, di qualità, e possiamo, tranquillamente, assegnare, un nome a piacere, oppure, troveremo, in automatico, data ed ora, della esportazione, insomma, una lavagna digitale, semplice, talmente semplice, che mi piace, e la penso, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, probabilmente, in particolare, ma anche, per il sostegno, per la presenza, di pochi pulsanti, e per poter avere, un foglio digitale, su cui interagire, senza fronzoli, ma su cui, poter scrivere, e da poter utilizzare, magari, perché no, per creare facilmente, rapidamente, uno schema, per prendere un appunto, insomma, una sorta di, sketch note, quasi, ancor più che lavagna. A voi, la prova pratica su strada, come di consueto, e dandovi, sin d'ora appuntamento, al prossimo video corso, un caro saluto, a tutti e a tutte, da Andrea Cartotto, fatemi salutare, anche l'amico Albano Battistella, va anche a fine video, così so di farlo contento. Ciao, a prestissimo!